Musica Carmine Cassese, mister del Ripacandida, quanto rammarico c'è in questa seconda partita? Sicuramente c'è il rammarico, ma non eccessivo perché i nostri obiettivi sono chiari. Sicuramente dopo il risultato dell'andata abbiamo provato anche a qualificarci, sarebbe ipocrita non dirlo, però i valori penso che alla fine sono usciti tutti. Il rammarico è che avevamo messo di nuovo bene la partita, abbiamo fatto gol subito e purtroppo l'esperienza della Vulto è uscita fuori nelle situazioni dove abbiamo sbagliato. Ci hanno punito cinicamente e poi secondo me abbiamo fatto un'ottima prima mezzura. Abbiamo cercato anche di alzare il baricentro, abbiamo fatto buone giocate, abbiamo cercato di impensierirne. Non è normale che poi alla fine abbiamo preso l'ultimo secondo, ormai non ce lo facevamo più. Ma il rammarico giusto, i nostri obiettivi non erano quelli di andare lontano in Coppa Italia, anche dopo il sorteggio. Sapevamo che per noi sarebbe stata dura, sicuramente è stato bello giocarsela, i ragazzi ci tenevano e tutti volevano dare questa soddisfazione a questa comunità, però non ho da rimproverare niente a nessuno. Alla fine va avanti chi ha meritato nelle due partite ed è giusto che sia così. Quali utili indicazioni da questa gara? Se qualcuno pensava già che noi avessimo una squadra che poteva tranquillamente salvarsi, ha capito quali sono le insidie del campionato. Sicuramente non dobbiamo salvarci contro Vulture, Grumento, Melfi, Lavello, queste le partite dove andremo in difficoltà, ci giocheremo alla morte anche quello. Però le indicazioni sono che il campionato è duro, ci aspetta un campionato duro. Però le due partite credo che hanno dimostrato che non siamo una cenerendo, non siamo assolutamente una squadra facile da abbattere. La Vulture ha dovuto fare comunque due grandi partite per qualificarsi. Queste sono le indicazioni di stare con i piedi per terra, ma di aver capito che ci siamo anche noi, che ci stiamo bene nel campionato. E contro le squadre come noi dobbiamo giocarci tutte le speranze di salvezza. Queste sono le indicazioni. Veniamo al campionato. Inizio con una trasferta delicata a Moliterno. Abbiamo già uno scontro salvezza, tra parentesi, perché la prima giornata comunque non si risolve niente. Qualsiasi risultato, porti a casa, non ti cambia la classifica. È solo l'inizio, però è già un banco di prova duro perché è un campo difficile, un campo di categoria, dove loro costruiscono le loro salvezze, sicuramente si puntano alla salvezza come così sembra. Ed è già un bel banco di prova per noi. È una squadra come noi, dovrebbe essere una squadra come noi. E là già inizieremo a vedere l'ambiente d'eccellenza, l'ambiente delle squadre che si devono salvare. Sarà, credo, quella la partita dove potremo trarre indicazioni in campionato, anche se comunque è la prima. Non potremmo essere al massimo, però ci dobbiamo andare già a giocare punti importanti. La Moliterno, col coltello fra i denti, con la spensieratezza di una squadra che già è tanto, che sta in eccellenza e con la voglia di portare già a casa un risultato utile, in uno scontro già salvezza per noi. Poi magari il campo potrà dire tutt'altro, potrà dire che Moliterno non è una squadra che ambisce solo la salvezza, perché abbiamo poche notizie, sappiamo di una squadra giovane, di una squadra riconfermata, ma da quello che dicono è una squadra che deve salvarsi. Quindi partiamo con uno scontro salvezza. Questo è quello che prepareremo, è quello che prepareremo in questi quattro giorni di allenamento, che ci dividono dalla partita e con spensieratezza ed entusiasmo ci andremo a giocare l'esordio di ripagandita di questa comunità in eccellenza. In ultimo abbiamo visto un ambiente felice, entusiasta, con l'arrivo di Zuccaro, una pedina in più per migliorare l'assetto qualitativo della squadra o manca ancora qualcosa? No, 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 abbiamo avuto l'opportunità, onestamente fino a pochi giorni prima del discorso Zuccaro non sapevamo, poi abbiamo saputo che era in uscita da Lavello, abbiamo Catarinella di Lavello che viaggia da Lavello, abbiamo avuto questa opportunità. Sempre nel nostro grido, genere del territorio, la società non vuole fare grossi esborsi economici per giocatori che vengono da fuori, non abbiamo la possibilità in foresteria di tenere gente che viene da lontano, come ci hanno proposto i vari procuratori, la società ha fatto una scelta precisa, il vecchio gruppo dell'anno scorso integrato da Samuil, che oggi già ha dimostrato quanto starà bene fisicamente al 100%, che cosa potrà dare a questa squadra e sono sicuro che lo darà, però per il momento siamo questi, se poi col tempo a dicembre vedremo che abbiamo delle situazioni da aggiustare, la società sa che se c'è da fare qualche sacrificio a dicembre, però credo che queste due partite non hanno dato indicazioni allarmanti sull'organico, che ce la siamo, ripeto, ce la siamo giocata e non abbiamo demeritato sotto nessun aspetto, ha vinto la squadra più forte, è normale che ha vinto la squadra più forte, se avessimo fatto un'altra partita come è andata, più del normale, dando il 101%, eppure o la Vult non avesse giocato con questa intensità, con questa cattiveria, con questa voce, potevamo anche passare, ma quello che ha detto la Coppa Italia a me non dispiace onestamente, è normale che non si può essere contenti delle sconfitte, oggi comunque torniamo a casa tristi, torniamo a casa delusi, ma io le mie cose, le mie valutazioni le devo fare nel lungo, e per me non è da buttare questo turno di Coppa Italia. Al di là del risultato, il Presidente e la società dimostrano che comunque ci tengono tanto. Sì, 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 su questo non c'è alcun dubbio, si impegnano, sono sempre qua, io è la prima volta che ho tutto questo come contorno, e onestamente non ci fanno mancare niente, è una società forte, nel senso, ma non è solo una questione economica, ma è un senso di uomini, c'è molta gente vicina a noi, magazzinieri, collaboratori, oltre ai dirigenti, oltre alle cose, sì, la società si sta comportando benissimo, è normale che, come tutte le cose, anche se il discorso che hanno fatto a noi, il discorso di stare tranquilli, di giocarci la salvezza in tutti i modi, ma i ragazzi sono tranquilli che nessuno è sotto esame, questo è il gruppo e con questo gruppo dobbiamo cercare di salvarci. Niente da dire, veramente, ci stanno alla grande, vicino, e anche più del normale in queste categorie.